Buongiorno, mi chiamo Giorgio Zuccaro e sono il titolare dell'omonima azienda agricola. Ci troviamo in Calabria, nella piana di Sibari e in particolare all'Auropoli, nel comune di Cassano all'Oionio. Un territorio meraviglioso, con nubio perfetto tra mare, montagna e campagna. L'azienda si tramanda da generazioni, i miei nonni, il mio papà e dal 2009 sono subentrato io, che dopo gli studi universitari ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla gestione dell'azienda. Storicamente l'attività aziendale è sempre stata incentrata sulla cerealicoltura e sull'allevamento bovino. Solo dal 2009 abbiamo deciso di puntare sulla frutticoltura, impiantando 12 ettari di pescheto, in particolare pesca tabacchiera. Quest'anno abbiamo proseguito su questa strada, impiantando altri 11 ettari di mandorleto e altri 6 ettari di oliveto. Oggi i nostri frutti vengono conferiti totalmente alla cooperativa di cui siamo soci, la Coab di Corigliano Calabro. La nostra produzione segue disciplinari di agricoltura integrata, questo permette di un minore impatto ambientale e una maggiore sostenibilità dell'agricoltura. In futuro abbiamo intenzione di continuare su questa strada, quindi dedicare ancora i terreni alla frutticoltura, anche quelli che ancora oggi sono dedicati ai cereali. E poi il sogno sarebbe quello di trasformare i nostri prodotti e di venderli al cliente finale con un nostro marchio aziendale. I nostri prodotti godono della certificazione Global Gap e inoltre buona parte della nostra produzione è venduta a marchio Conad. Circa 5 anni fa ho avuto modo di conoscere Timac tramite il suo tecnico di zona Alberto Chianta che ci ha presentato i suoi prodotti ed abbiamo deciso di provarli in azienda. Noi utilizziamo principalmente il sulfacid nella fase iniziale, questo permette alle piante di assimilare tutti gli elementi che sono presenti sia nel suolo sia dalle concimazioni precedenti. Poi andiamo avanti con il Fertiactyl GZ che nella fase di ripresa vegetativa ci permette di ottenere una fioritura omogenea ed uniforme. Un prodotto per noi importantissimo è Adur, un prodotto a base di osseo di calcio che è un elemento molto importante per ottenere produzione di qualità, di pezzatura, affinché il frutto possa essere poi conservato a lungo anche dopo la raccolta. Infatti ne allunga la shelf life, quindi la vita commerciale. Questo prodotto in associazione con FertiLeader Magical è anche molto importante soprattutto nelle pesche tabacchiere che potrebbero presentare quel difetto nella cavità centrale di mancata chiusura. L'utilizzo contemporaneo di questi prodotti ne aiuta molto a limitare il difetto. Da quest'anno abbiamo introdotto la concimazione autunnale di fondo con il prodotto ATP Plus Organ Foss. Siamo molto contenti dell'utilizzo dei prodotti T-Mac, abbiamo notato comunque dei miglioramenti sia in termini qualitativi e quantitativi e quindi sicuramente continueremo ad utilizzarne in futuro anche sulle nuove piantagioni. Del mio lavoro mi appassiona, al di là dell'aspetto imprenditoriale che mi ha sempre affascinato dal punto di vista più strettamente agricolo, la possibilità di lavorare sempre a contatto con la natura, quindi sempre all'aperto e poi soprattutto credo che sia molto affascinante poter assistere a tutto il ciclo di produzione che porta poi alla realizzazione del frutto. Al prossimo episodio